Ci troviamo qui, dodicesima edizione, un cuore per tutti, tutti per un cuore Ollus e vediamo che sta per cominciare la serata e abbiamo qui il dottor Pulcini, permette dottor Pulcini, ecco il presidente della dodicesima edizione di un cuore per tutti e tutti per un cuore. E' un evento importante dedicato a tutti coloro che in silenzio ma con grande cuore e amore si dedicano a chi soffre, io immeritatamente sto in prima fila ma ci metto la faccia soltanto per essere responsabili di quello che succede, ma credetemi ci sono persone che lavorano molto meglio e più di me e sono molto più brave, ma quelli che vengono qui lo fanno spontaneamente con grande cuore perché sanno che dietro questo evento potranno essere salvate le vite di tanti bambini, ne nascono 800.000 ogni anno di bambini cardiopatici e purtroppo 600.000 non ce la fanno, noi ne salviamo noi, in tutto il mondo se ne salvano 200.000, noi vogliamo aumentare questo numero di sopravvissuti in modo che un giorno ci regalano in cambio di questi sforzi che facciamo col cuore un sorriso. Ecco come si sta preparando il tutto, a breve comincerà questa serata dove aderiscono tutti gli anni tantissimi artisti. Ma c'è veramente una gara e mi dispiace, li ringrazio quelli che partecipano ma ringrazio e mi scuso con quelli che dobbiamo purtroppo escludere perché per motivi di tempo e di spazio la scaletta è severa, specialmente qui chiudono alle 11 e non possiamo allungarci come facevamo magari gli altri anni. E li ringrazio di cuore, primo perché sono venuti gli altri anni in un ambiente poco adatto a loro perché era un ristorante, qui stanno proprio nel loro habitat e speriamo che il loro talento serva non solo a distrarre e a dilettare coloro che vengono ma ad aumentare i bambini che sopravvivono grazie a questa beneficenza. Ecco vogliamo fare un appello, vogliamo dare qualche anticipazione? Sì, abbiamo realizzato già qualche struttura importante ma diceva Confucio se uno ha fame non dargli il riso, insegna a coltivarlo e quindi noi ci siamo preoccupati non solo di creare le strutture laddove non esistono, adesso ci stiamo occupando dell'Africa ma abbiamo fatto una struttura in Siria, in Egitto, in altri posti. Abbiamo formato il personale attraverso l'Università di Milano dando delle borse di studio e oggi queste strutture non solo ci sono ma sono in grado di funzionare da sole grazie a questa preparazione. Qui abbiamo il professor Frigiola che è il vero motore, è colui che opera materialmente i bambini e ve lo volevo presentare. Adesso, Alessandro, un'intervista per favore. Appena poi. Ecco, la ringraziamo dottore di tutto quello che state facendo, ecco il dottor Frigiola. Sì, Alessandro Frigiola che è colui che fa più missioni di tutti all'estero e che materialmente opera questi bambini, naturalmente i viaggi sono a carico nostro, non sono a carico dell'associazione per cui quello che ricaviamo lo diamo generosamente per creare strutture e formare personale.